Ciao a tutti! Mi trovo qui per ribadire un concetto per me molto importante, e cioè che io non possiedo nessun profilo social. Quindi quello che alcuni di voi stanno seguendo sul web è soltanto un profilo falso. Non ci sono profili autorizzati nel modo ufficioso, nel modo ufficiale da me, in nessun modo. E poi c'è un'altra notizia falsa che riguarda la mia salute, dice che io soffro di una patologia e non è assolutamente vero. Per mia fortuna godo di ottima salute, che in un momento drammatico come questo non è una cosa da dare per scontato, e neanche da trattare così superficialmente. Grazie a tutti! Ciao!